Oggi voglio parlare di Ideal of Sweden, un marchio svedese di moda e lifestyle per accessori e per cellulari. Gli accessori di attrazione rendono questi prodotti facilmente intercambiabili con un semplice clic magnetico. Un'innovazione all'avanguardia ti consiene di creare gli abbinamenti più perfetti e seguire le tue attrazioni di moda. Stabilisci una connessione o un accessorio di attrazione. Ideal of Sweden è stata fondata nel 2013 con l'obiettivo di produrre i prodotti più innovativi che si distinguono e facciano la differenza nella vita delle persone. Con qualità, design e funzionalità come principi guida vengono costruiti questi prodotti con materiali accuratamente selezionati. Progettano loro stessi questi prodotti con l'ispirazione che trovano nelle fiere della moda e nelle ultime passerelle, lavorando costantemente per trovare soluzioni innovative e funzionali. Ideal of Sweden è nata dall'innovazione e dalla curiosità ed è ancora la più grande forza creatività e innovazione. Nella mente degli ideatori non è mai finita e tutto può sembrare essere migliorato tuttavia. La loro visione è quella di essere la scelta più ovvia per gli accessori del telefono che ogni prodotto che arriva nelle mani dei clienti sarà amato più dell'unità stessa. Per cui è stato creato il Progettivo of Sweden si impegna a fornire la massima qualità in tutto ciò che fa. Ci include tutto dal processo di realizzazione dei loro prodotti artigionali al loro pensiero sostenibile. Ogni prodotto viene testato sulla qualità prima della consegna e realizzato solo con materiali accuratamente selezionati, che soddisfano i loro elevati standard di qualità. Si assumono inoltre una grande responsabilità nei confronti dell'ambiente e tutti i loro prodotti sono in linea con gli standard e le linee guida europee. La funzione di Ideal of Sweden si concentra sullo sviluppo costante di nuove funzioni innovative per i loro prodotti, con l'obiettivo di semplificare la vita quotidiana delle persone in movimento. In ogni prodotto cercano di aggiungere quante più soluzioni e funzioni intelligenti possibili. Il perfetto equilibrio con il design del prodotto. Il telefono è diventato di gran lunga lo strumento più utilizzato nella via di tutti i giorni. La sua popolarità e il suo ruolo, importante nella vita delle persone, rendono estremamente importante per noi sviluppare le cover più ottimali e funzionali alla moda. La confezione di Ideal rappresenta i migliori prodotti in questo segmento di mercato, che ovviamente desiderano evidenziare. Per questo danno la massima importanza al modo in cui vengono esposti i loro prodotti. Tutti i loro prodotti vengono consegnati in una scatola aperta, ovvero una scatola aperta che permette al cliente di sperimentare e testare i prodotti in negozio. Tutti i loro prodotti si appendono bene alle pareti, con un design elegante e una confezione uniforme. Tutti i clienti ricevono opere d'arte progettate professionalmente su tutti i loro prodotti, ricevendo anche un supporto standard. I prodotti di Ideal sono ispirati alle ultime tendenze di moda delle passerelle progettate in Svezia. Ideal of Sweden è il marchio perfetto per trovare qualsiasi prodotto che ti piace. A me e a presto! A me e a presto!